Dormirete con le mie vacche stanotte! Spero non siate tollerati all'autosio. Tutto ciò che vi chiedo è che nessuno attenti alla virtù della mia vergine figliola. Sì, ho capito. È quella barzelletta del fattore. Tu puoi dormire nel mio granaio, ma non puoi toccare la mia deliziosa affamata di cazze figliola. Non è uno scherzo. Infatti in casa mia vige l'undicesimo comandamento. Tu non giacerai con la prole del fattore! A meno che tu non voglia assaggiare l'ira del suo bastone. Chiara? Sì, signora. Ti ho fame! Un incidente col treno, poveri tesori. Grazie al cielo siete rimasti inlesi. Sembra tutto delizioso, signora... Il mio nome è Libby e lui è il mio Joseph. E Josephine sarà qui a momenti. Josephine! Tyler, come pensi che sia la ragazza? Non ci voglio pensare. Questi fanno schifo, avrà un dente sì e uno no. Ah, Josephine! Ti sei decisa a raggiungerci. Ciao. Ciao! Ciao! Ciao!